Buongiorno, buongiorno e buon martedì 7 aprile. Martedì 7 aprile 1993. Sono passati 27 anni, il Milan batteva 1-0 in Svezia il Göteborg. Grande gol di Daniele Massaro, 1-0. Pensate che in quell'edizione della Coppa dei Campioni, poi torneremo sulla partita, il Milan, fino alla parita conclusiva purtroppo persa con il Marsiglia a Monaco di Baviera, aveva segnato 23 gol, non subendo mai gol salvo che in un'occasione Romario contro il PSV Eindhoven. Per il resto aveva sempre segnato senza subire una rete, una cavalcata, quel Milan di Fabio Capello straordinaria. A Gotteborg, il Milan aveva già battuto il Gotteborg grazie al 4-0 con quella grandissima serata, i 4 gol di Marco Van Basten, tra cui la rovesciata. E ribadì la sua superiorità in una partita ben controllata, con un bel contropiede di Massaro a una ventina di minuti dalla fine e quindi si regalò la finale. Una partita prima perché poi giocò l'ultima partita, mi sembra con la Indome, esatto, 2-0. Una partita che non contava più, ricordo anche in quella partita il debutto di, anzi la partita di Carlo Cudicini che aveva già debuttato a Porto. Ma veniamo all'attualità. La domanda è, abbiamo letto nelle ultime ore, che ci sarebbe un budget che da 100 è diventato 75 milioni di euro per il prossimo mercato. Saranno sufficienti? Beh, indubbiamente è una cifra importante, soprattutto se si hanno le idee chiare, ho parlato nel video di ieri di opportunità, ma poi soprattutto la voce, i rumor parlano anche che le eventuali cessioni, non verranno, ricavo delle eventuali cessioni, non verranno, non saranno utilizzati per il bilancio, ma verranno messi nella campagna rafforzamento. Quindi una campagna rafforzamento che si verrà, diciamo, formata da opportunità con scambi, eventualmente prestiti, ma con le opportunità, con un qualche giocatore importante e giovane, qualche giovane promettente, ecco che una campagna in questo estate che si prospetta complicata per quello che riguarda, diciamo, gli investimenti economici per le squadre di calcio, potrebbe essere una cifra importante per una società solida, una proprietà solida come il fondo Elliot. Quindi se la partenza sarà confermato 75 milioni di euro con delle cessioni, vediamo, il Milan ha diversi giocatori che possono andare sul mercato e con qualche risparmio importante, ne dico uno su tutti, 3 milioni e mezzo di biglia, ecco che potrebbe esserci un buon lavoro per il, diciamo, per la formazione di casa Milan, per la formazione delle scrivanie di casa Milan, che dovranno cercare giocatori importanti, perché il Milan poi non cercherà solo giocatori importanti per la prima squadra, ma anche giocatori per la primavera che possano già lavorare con la prima squadra. Questo è il compito anche del settore scouting del Milan, quindi cercare giovani interessanti per la primavera che possano essere già inseriti negli allenamenti all'inizio per la prima squadra. Quindi questa è un po' la visione, vedremo, i 75 possono essere pochi, possono essere tanti, possono essere pochi se verranno spesi per uno, due, tre giocatori, ma non mi sembra questa la filosofia. Poi bisogna vedere se rimarrà Stefano Pioli, chi sarà se arriverà Ragnic, però l'impressione è che se dovesse arrivare Ragnic, diciamo, gli obiettivi sono abbastanza già studiati, le prospettive sono già studiate, la filosofia è già studiata. Quindi 75 milioni di euro mi sembra una buona base di partenza, chiaro che se prendi Obama Young l'hai già buttato via per Obama Young, ma non credo che sarà questa la filosofia del Milan e quindi vedremo con obiettivi giocatori magari come Obama Young che valgono 70 milioni o valevano, adesso magari ne valgono 20-25, quindi delle opportunità di mercato. Quindi l'importante è che dietro ci sia la proprietà solida, dietro ci siano delle idee chiare e delle prospettive di lavoro molto ben già definite e delineate. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo P.